Due giorni di allenamento con la tua nuova squadra, come ti trovi? Sono buone sensazioni, al di là che in ritiro i primi giorni sono quelli più difficili, ritornare al campo, provare le nuove idee, però devo dire che ho trovato un gruppo di ragazzi stupendo, che ha tanta voglia, che ha fame e voglia crescere. Un allenatore che ha delle idee molto valide, che mi piace, quindi direi che è molto positivo. Il presidente Serafino ti ha voluto fortemente, ma come ti ha convinto? Beh, io prima di accettare mi sono informato un po', al di là di quello che ho parlato con il presidente, di quello che mi ha detto il direttore, mi hanno detto di una piazza calda, quindi questa cosa mi ha stupito tanto, perché c'è un progetto buono a lungo termine, c'è una idea valida, e la verità è che avevo voglia di sentirmi un'altra volta in un posto così. Quindi stiamo lavorando ovviamente per raggiungere quelli che saranno i nostri obiettivi e che speriamo ovviamente che siano molto importanti. Purtroppo per il Covid non abbiamo potuto avere troppi tifosi al nostro fianco, però ti hanno accolto almeno sui social in una maniera straordinaria. Molto bene, sì sì, è molto bello. Quando la gente, la città è vicina alla squadra, penso che è qualcosa in più. Mi è toccato vivere in passato in Sud America, in Brasile, anche qua in Italia, in piazze calde anche al sud, e penso che è un piccolo vantaggio che dovremmo sfruttare. Nella sua conferenza stampa, mister Montaro ha detto che Maxi Lopez è un leader. Tu ti senti un leader? Diciamo che secondo tanti ragazzi giovani, tanti che fanno il primo passo, il calcio italiano non è facile, e quindi io proverò ovviamente a dare sempre una mano, a mettermi a disposizione dei miei compagni, perché è insieme a loro che raggiungeremo i nostri obiettivi stagionali. C'è tanta gente giovane che deve imparare, e quindi proverò a dare sempre una mano e a mettermi a disposizione. Ultima cosa, cosa vogliamo dire ai nostri tifosi? Beh, che ci possono credere, perché si sta formando una cosa bella, è un progetto ambizioso e che forse può essere un anno importante per quanto riguarda gli obiettivi.